buongiorno amici e benvenuti nel mio canale youtube e tanto che non faccio la pizza sono andata a vedere la ricetta di rosa di fonzo nei file del gruppo nuvola un amore di passamadre proviamo a fare quella la faccio insieme a voi bene ho preparato gli ingredienti e le dosi di questa ricetta le trovate anche sul gruppo di nuvola un amore di pasta madre di rosa di fonzo io ho diminuito un pochino le dosi perché voglio fare meno pizze bene procedo per impastare farò tutto a mano senza usare la planetaria gli abito madre è stato portato già al raddoppio ho rinfrescato quindi l'ho lasciato fino al raddoppio ho preparato l'acqua inizio ok ho preparato anche l'olio con il sale come avete visto inizio con aggiungere l'acqua alla farina alle due farine o la farina setacciate la sempre io non lo dico mai però comunque sia sempre meglio setacciarla specialmente adesso che fa caldo eh anzi penso tra poco io la metterò direttamente in frigo ok aggiungo il lievito madre che ho sciolto finisco di mettere l'acqua inizio ad impastare all'inizio è molto appiccicoso vedete poi piano piano si compatta metterò anche l'olio piano piano e il sale l'impasto è quasi pronto naturalmente vi ho accorciato i tempi però ci è voluto almeno 20 minuti per portarlo ehm a incurvatura ho aggiunto l'olio piano piano e continua bene una volta pronto ho già preparato un contenitore oliato e ho già preparato un contenitore e lo metto lo tengo un pochino a temperatura ambiente un'oretta così per far partire la lievitazione poi lo metto in frigo fino al giorno dopo almeno 24 ore eh ma anche di più potete potete tenerlo allora eccolo qua il giorno dopo eh io l'ho tirato fuori il po' nel primissimo pomeriggio e tenuto almeno due ore a temperatura ambiente vedete che belle bolle una mi si è rotta non vuole vedere perché c'era la bolla non toccata e quindi dicevo lo tengo fuori due ore e poi verso le 16 o 17 e comincio a fare dividerlo a fare le pezzature come già sapete i tempi cambiano a seconda delle stagioni adesso fa caldo ehm se lo preparo ehm le pallette adesso con un'ora due ore massimo eh già sono sono pronte per lavorarle ehm mentre invece d'inverno ci vorrà più tempo quindi regolatevi voi ehm non le lavoro molto eccolo è rotondo un pochino così mi aiuto con la farina con la semola e le metto a lievitare ehm dentro una teglia coperta con un con un telo con un canovaccio oppure se volete potete coprire con la velina bene ci vediamo dopo ed eccoci qua possiamo cominciare ad allargare le nostre pizze lo faremo piano piano così prima sulla tavola con le mani ci aiutiamo con la farina si sono formate delle bolle naturalmente cerchiamo di non romperle piano piano così beh non è che sono un'esperta pizzoiola ehm faccio così la tiro un po' in alto cerco di abbassarla un po' al centro perché mio marito piace un pochino più sottile quindi cerco ma voi se vi piace più alta la lasciate più altina ehm ok ora è pronta ne prepariamo un'altra lo stesso procedimento lo piano delicatamente poi l'allardiamo un pochino così naturalmente voi procedete ehm al vostro modo ehm anche con le mani piano piano direttamente nei suoi letti come volete mi tengo un pochino una mezz'oretta 20 minuti magari bastano a rilassare un pochino eh coperto la pellicola se volete e poi metto il pomodoro soltanto il pomodoro perché la mozzarella va messa dopo come sapete in forno con il forno a 2,40 metto un po' d'olio e vado ho preparato la mozzarella questa non è di bufala ma ci vorrebbe la bufala ehm perché la pizza da Napoli e il basilico qui l'ho tirata fuori l'ho fatta cuocere un pochino l'ho tirata fuori forse anche troppo presto l'ho tirata fuori ehm deve leggermente colorire ne ho fatta una anche con le alici perché come marito mi piacciono le alici ed eccola qua la nostra pizza è pronta in prestattopo 15 minuti certo se volete il forno a legna perché la pizza deve cuocere in pochissimo tempo a massimo 10 minuti però come il forno di casa insomma facciamo quel che possiamo bene però mi sembra molto bella è avviolata come vedete al centro è sottile come la voleva mio marito ok possiamo assaggiarla grazie a tutti amici grazie per la visione ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao